Una casa per gli innovatori dove far crescere le idee ambiziosi, uno spazio dedicato all'ascolto e al contatto di tutti coloro i quali sono interessanti ai temi dell'innovazione. Si tratta di ShipLab. L'obiettivo presentato questa mattina è quello di mettere a disposizione delle community territoriali spazi di networking e formazione sui temi di maggiore interesse in collaborazione con università, incubatori e partner locali. Stiamo portando avanti un spazio di co-working e un progetto per la nave greca che sarà fondamentale per il territorio. E qual è questo progetto per la nave greca? Farà sì che la nave greca diventi un brand per la città e quindi sarà possibile che venga riconosciuto anche al di fuori dei confini locali e venga portato in vetrine internazionali quali l'Expo, la Borsa Internazionale del Turismo oppure anche in televisioni. e nei media a livello nazionale. L'amministrazione comunale di Gela ha garantito per adesso l'ospitalità dei giovani nei locali distaccati di Machitella ma si tratta, dicono i fondatori del gruppo, di un primo passo. Chiediamo la possibilità di continuare ad usufruire di questo spazio in alternativa, un altro spazio che ci permetta di fissare una nostra sedia. Chiediamo la fiducia, la fiducia da parte dell'amministrazione e delle istituzioni affinché ci sostenga nella promozione del territorio. Per quanto riguarda bandi e concorsi ci attiviamo da sole perché miriamo in un autosostentamento. Facciamo un appello anche ai privati affinché sottolineiamo la nostra presenza aperta al territorio. La nostra ultima ambizione comunque rimane quella di avere una partnership con il Comune. Giovani che dalla città di Gela vanno via dunque si concretizza la fuga di cervelli, invece cervelli che rimangono a Gela perché a Gela sono nati e a Gela vogliono produrre. Esatto, i cervelli devono rimanere a Gela perché un altro obiettivo di ShipLab è quello di creare uno spazio di accelerazione per le start-up innovative. Quindi il giovane gelese che ha un'idea può avvicinarsi a questo spazio e tramite l'aiuto di mentors, di eventi e di workshop mirati dall'idea si passerà velocemente all'azienda e subito verrà messo nel mondo del mercato, quindi entrare nel mercato. Questo per dire che ci sarà molta execution, molta esecuzione, cioè si parlerà di fatti e non solo di teoria. Esempi lambanti in Sicilia già ce ne sono. Uno tra tutti ricordo Blinka che ad oggi è nato a Gela, un'idea è nata a Gela e che ad oggi sta ottenendo vari finanziamenti. E quello che vogliamo fare è creare innovazione qui a Gela. Gela deve diventare il punto nevragico dell'innovazione non soltanto per la Sicilia ma anche per tutta la nazione, perché no anche a livello europeo e mondiale.